Ciao, buongiorno a tutti, buon martedì, Macedonia musicale. Oggi breve ma intensa, tre ingredienti fondamentali. Il primo, Luz and Yakuza, artista congolese belga. Se non la conoscete andate ad ascoltare per prima cosa il suo primo singolo di grande successo internazionale che è stato Dilem. Lei ha pubblicato in questi giorni l'album di debutto che si intitola Gore, quindi se volete andarla a scoprire partite da Dilem e poi andate un po' ad ascoltarla. Io l'ho vista ormai più di un anno fa in uno showcase qui a Milano live ed è veramente magnetica, veramente magnetica, ve la consiglio. Seconda cosa, come non parlare del max nazionale, naturalmente mi riferisco a Max Pezzali, qualcosa di nuovo è arrivato il singolo e questo è anche il titolo del suo nuovo album che pubblicherà il 30 ottobre. Ho visto che insomma nel singolo c'è la produzione di Michele Canova, da Los Angeles ci ha messo il suo zampino e ci sono dei feature in quest'album che ripeto arriva il 30 di ottobre, J-AX, Tormento e Johnny Scandal. Io quando Max pubblica qualcosa sono sempre molto curiosa. Terza cosa, James Blake ha pubblicato un EP, quattro tracce che sono dedicate a Londra e all'era dei club e lui dice in questi brani c'è il desiderio per l'euforia da dance floor. Lui insomma ci ha già ragionato su durante il lockdown e quindi probabilmente quello che è venuto fuori è proprio la mancanza del fatto di andare a ballare. Va bene, per la Macedonia musicale è tutto, grazie di aver guardato e letto insomma un sacco di cose che ho scritto in questi giorni, quindi vi ringrazio tanto, a domani, ciao! Ciao! Grazie a tutti.